buongiorno ragazzi ben ritrovati da quincenzo allora sono arrivati in corso venezia qua al club link in co finalmente ve lo porto a far vedere adesso ve lo presento un posto pazzesco fantastico guardate che bello ecco i ragazzi link ciao vi faccio vedere questo spazio bellissimo originalissimo ricco di iniziative ovviamente il core business è quello della presentazione della nostra bellissima auto link 01 come potete vedere faccio fare una panoramica in questo pazzesco regno di design guardate che roba teatro di diverse manifestazioni eventi potete essere ospitati per le vostre riunioni di lavoro qua l'ospitalità e ragazzi è la prima cosa che vi viene diciamo il poste permeato di questo di questa di questa sensazione quasi avete ospitato faccio vedere una piccola chicca anche i bagni guardate davvero tantissime tantissime chicche spero non ci sia nessuno guardate quasi sono sbizzarriti anche in questo bellissimo bagno cose pazzesche qua c'è davvero una ricerca esagerata di design e di effetto venitelo a trovare corso venezia in milano al numero 6 sarete ospitati potrete farvi una qualche aperitivo caffè verete accolti in maniera esemplare dai nostri amici che sono qua disponibili per voi per farvi vedere quello che come vi dicevo il nostro nostro io non lo faccio è diventato mio ma comunque io sono portavoce diciamo qua in italia di questo prodotto guardate la nostra link è ovviamente diciamo la trazione del posto comunque guardatevi le date sul sul sito qua troverete un sacco di eventi e niente buona frequentazione e buon ti vedete un saluto da quincenzo ciao ragazzi